Cavoli, avrei proprio bisogno di qualche cosa di frizzante per dare un po' di pepe a questa noiosa vita Eppure non ci trovi Ed eccoci qui Buongiorno Buonasera, a seconda di quando vedete l'episodio Questo è il nuovo episodio di La paura fa godo Avete già paura? Fate bene Perché insomma ne ammettiamo di più E buongiao Non so nemmeno che tempo è perché sono così presto a fare l'episodio che non so nemmeno che ora è Incredibile Io sono Guglielmo E quello di fianco a me come avete capito ormai sarà benito Eh eh, è stata una benita Oggi parleremo come avevamo preannunciato No, non è bene, avevamo solo detto un indizio Però si tratta della Della Manannagal O anche conosciuta come La Mannaggia Mannaggia, Mannaggia Non la chiameremo Mannaggia perché ci piace Questa è una cosa molto più di nicchie rispetto alle cose che vi avevamo detto finora Però insomma è giusto parlare anche di queste cose Vedrete che insomma ne vale la pena Ne vale la pena Ebbene sì Questa creatura si chiama Manannagal E come potete vedere sembra quasi un vampiro Un vampiro o un vampiro E però ha una peculiarità che gli manca la parte di sotto Non è una partita, gli manca davvero la parte di sotto Chi porta i pantaloni in casa eh? Chi porta i pantaloni in casa? Sicuramente non la mannaggia Perché lei come vedete non ci dia, non può averci No scherzo, ora vi spieghiamo per bene Dunque la mannaggia è un aspetto di una donna Principalmente sono donne Anche se a quanto pare ci sono pure i maschi Però sono donne Insomma le mannagge Le mannagge sono donne Le mannagge Le mannagge mi fa ridere Incredibile, assurdo Esatto, esatto Le mannagge E come vedete loro hanno la peculiarità di staccarsi la parte superiore del corpo E farla volare con queste ali simili da pipistrello quasi no? Giganti, incredibili E a parte l'aspetto orribile che hanno in questa rappresentazione Però di fatto di solito sono delle donne anziane Hanno l'aspetto di donne anziane E però possono mutare il loro aspetto E quindi Jim Brolyan in questo modo Si tramutano da donne bellissime Per trarne in inganno Però insomma l'aspetto sono bruttissimi in realtà E questa è la verità E dunque Come vedete Questa è un'altra rappresentazione Sembra quasi una figure Anzi credo sia proprio una figure Di una mannaggia incredibile Ripeto si chiama mannaggal Una cosa del genere Però non le chiamiamo mannaggia per comunità E come vedete qui c'è proprio una figure incredibile Io me la comprerei A parte che Vabbè Sì questa effettivamente è di brutta fattura Però sapete qual è il fatto Sapete perché non è proprio perfetta Perché si può muore le mani Vedete ha le giunture alle mani Le può muovere Bellissimo Carine le figure così Però giustamente risentono un po' della qualità E che deve fare Allora spieghiamo un po' di loro Come vedete Si è tagliata Ma sembra quasi come se si sia fatta male No tranquilli tranquilli E' una sua peculiarità Lei si può appunto togliere la parte del dorso E che cosa fa? Si nutre Di bambini Di feti Incredibile Si addentra nelle case delle persone Delle donne incinta Non sto segretando Li ruba il feto La sua lingua Che può estendere E la verità Non ridete La sua lingua che può estendere La fa entrare dentro Le Le vagine Delle donne incinta E ruba i feti Allora io lo so che questa cosa potrebbe essere bannabile Però è la verità Scusate Poi insomma Ci sono persone che parlano di queste cose ovunque Senza essere bannate Io che insomma Sono un povero ragazzo scimmia Non ne posso parlare E allora Maledetti Comunque Comunque come vedete Insomma Qui è rappresentata Che sembra quasi una bella donna Quasi quasi eh Però appunto Come abbiamo detto Possono cambiare aspetto Per Ingannare gli umani Ma dite voi Ma se tanto deve rubare Il feto alle donne Perché cambia aspetto? No tranquilli Perché I suoi Cibi Purtroppo è brutto da dire Però Insomma Le sue pitanze preferite sono I feti Ma si nutre anche di donne E di uomini Tranquilli Non si fa distinzione di nulla Alcuni dicono che succhia il sangue Però secondo molti Quella è un'altra leggenda Comunque tranquilli E appunto È molto simile ai vampiri Però Più che succhiare il sangue Insomma Divola letteralmente Vabbè Lasciamo Una domanda Che forse vi farete voi Vabbè Ma La parte sotto del corpo Dove sta? Dove sta? È molto semplice La parte sotto del corpo E Quando la Manannaggia si stacca Tende a nascondere La sua parte Sotto Diciamo Le gambe In un posto al sicuro Che non può essere scoperto Da nessuno È perché Quello è il suo punto debole È Spovele Esatto È il suo punto debole E Madonna che brutta È Terribile Comunque Sì Sì E insomma Come vedete Appunto di solito Hanno questo aspetto Di anziane Signore anziane Molto anziane Che si tramutano E come vedete La lingua Vedete la lingua Che tra l'altro Può Può allungare ancora Ma comunque Insomma Diciamo È per far capire Che c'è la lingua E I capelli tutti così Vabbè Quello è perché Insomma Per rappresentare Quanto sia mostruosa No? Mostro E Comunque Appunto La parte di sotto Lei la deve nascondere Perché se qualcuno La trova Sono cazzi amari Che La possono Le possono mettere Le classiche cose Che i vampiri Fanno male Cioè L'aglio L'acqua santa Il sale Tutte queste cose Che insomma I vampiri fanno male E alla fine Sono un po' Dei vampiri Dei vampiri Filippini Ah Siamo dimenticati Che è una leggenda Filippina Esatto Viene dalle Filippine E quindi Sono praticamente Tipici Vampiri Delle Filippine Esatto Ora facciamo una cosa incredibile Così Il cameraman Aiutaci con la Con la grafica Il cameraman Non sa Muoversi Ecco appunto Vedete qui c'è il bambino Con la donna Appunto perché Per rappresentare Che questa qui Va in giro A cercare i feti E Maledetta Una pedofila Una pedofila Palesemente Perché pedofila Li mangia letteralmente I bambini Quindi non è il termine adatto Comunque E Povero bambino Poveri bambini Eh vabbè Che devi fare Eh questa è la leggenda Questa è la leggenda Poi qui come vedete C'è un'altra foto Che Madonna C'è un'altra foto No Scusate Scusate Un attimo E Guglielmo Che cosa stai facendo Esattamente E Scusate ragazzi Mi intrometto E Dovete sapere che Ma stai al tuo posto Scusami Almeno Non mi E che il cameraman Non si vuole spostare Quindi mi devo mettere io qui Allora Dovete sapere che A me Mi piacciono tantissimo Le vampire I vampire in generale Però sapete come sono Sono Una Una scimmia semplice Vedo una vampira E Vado in fibrillazione Eh che devo fare Eh quando c'è vo c'è vo Giusto Sì però io ho paura Allora Già insomma Ero abbastanza Diciamo Non dico felice Però Insomma Tranquillo Perché insomma Non c'era il loot champion Su se Quindi Non rischiavamo nulla Ma adesso che ci sei tu Con le tue Manie Dei vampiri Ma scusami Ma Insomma Tu Faresti mai qualcosa Una Beh effettivamente Insomma E appunto Insomma Insomma Cari filippini Voi siete spaventati Da questa creatura Io Onestamente Voglio che venga A casa Voglio che venga A casa mia Questa creatura La mannaggia Madonna Quante cose Che potrei Non posso dire Perché ci sono i bambini Che ci seguono Mannaggia È giusto Non credo Non credo che i bambini Seguono questi show Insomma Altrimenti Crescono male Comunque No Poveri bambini Però insomma Io ci farei cose E comunque Sì esatto Questa è una rappresentazione Della mannaggia In stile Quasi più Carina Perché ha assunto Questo aspetto Per ingannare Questi stronzi uomini Godo Godo E tra l'altro Esatto Una delle altre leggende È che venga accompagnata Da alcune famiglie Che non ricordo Di cui non ricordo il nome Però vedete Sono dei famigli Tipo corvi Li vedete Lassopra Sono tipo dei corvi Non dei pipistelli Sì Insomma I vampiri C'hanno dei pipistelli Però in questo caso Loro c'hanno Tipo dei corvi Vabbè Ma come ben sapete Insomma C'è sempre Il Giappone Di mezzo Esatto Tra l'altro Sono vicini Alle Filippine Quindi ci sta Che sono più vicini Insomma In realtà Fra vicini Si capiscono L'altra volta Era successa Quella cosa incredibile Che c'era Quel polipo Assassination Glass Questa volta Ho paura Benito Che sta succedendo Dimmi Forse non dovrei Mostrartela Questa foto Perché prima Hai detto Quella cosa Che ti piacciono Le vampire Dobbiamo stare attenti Capito Capito Se non ci bannano Mannaggia Però insomma Il Giappone Ricordiamo il Giappone L'animazione È giapponese Insomma Camera Vai Ti affido a te Questo ha il tuo compito Deo Cosa ne pensi No Ho paura Guilielmo Cosa ne pensi Madone Incredibile Incredibile Guardatemi Comedy Comedy A livello Comedy Comedy Riesco Allora Guglielmo Sono morto Guarda Guglielmo che Secondo me Lo sapevano Non dovevamo fargli Vedere Queste immagini Eh cameraman Abbiamo sbagliato Mi sa Dobbiamo tagliare Tutte le sue grippe Mi sa No questo ci fa bannare Ma che sto facendo Guardalo Basta cameraman Taglia qui Capito Capito Taglia Taglia subito Ragazzi Ragazzi Ok Questo Non era previsto Tanto ha fatto casino Guglielmo Che insomma Faber L'avete conosciuto L'altra volta Insomma Faber si è incuriosito Ha sentito dei rumori Ed è arrivato E insomma Abbiamo pensato Di fargli fare Qualche clip Anche lui Dato che Ora che è con noi Insomma Ragazzi No Vi giuro Scusatemi Che insomma Non ce la faccio Con le vampirelle Io esplodo Mi dispiace Insomma Ecco Vabbè Lasciamo stare Stendiamo un velo pietoso Capito Capito Allora Faber Incredibile Che piacere Averti qui con noi Saluta un pochino Ciao ragazzi Non sono abituato A fare queste cose Perché Non Le facevo ogni tanto Nell'altro universo Nel Godover Ma qua Non sono abituato Allora Mi hanno presentato Queste immagini E mi hanno detto Che Guglielmo E' uscito pazzo E caperà E a lui Gli piacciono Le vampirelle Le vampirelle Capito E perciò C'è i gusti Discutibili E ma che ci deve fare Ragazzi Sono giovani Come vedete Questo è Una mannaggia In uno dei miei E non mettere fuoco Mannaggia E appunto In uno dei miei viaggi Nelle Filippine Ho avuto modo Di conoscere La lore Delle Filippine E ho incontrato Effettivamente Alcuni Sterminatori Di mannaggia Ovviamente Stiamo parlando Del Godover Capito Picciotti Stiamo parlando Del Godover In questo universo Non so se esistono Veramente Ma io l'ho incontrato Davvero nel Godover E sono Vabbè E spesso Una lancia A favore di Guglielmo Effettivamente Ci hanno Il fatto loro E giustamente Loro Che fanno Si tramutano Si tramutano Parare in realtà Sono brutte Capito Sono brutte Ma si tramutano E se si tramutano E occhio Non vede E cuore Non vuole Come si dice E io mi sono girato Perché mi dissocio Totalmente Vedete che Anche Allora Non sono solo io Allora Vedete che Anche Faber Concorda E mannaggia E appunto Mannaggia 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 E ammetto Che questa è una cosa Interessante Tra l'altro Voi non l'avete spiegato Perché siete giovani Ma voi non sapete Cos'è quell'altro Quello lì È una pena Nuggle Deriva Dalla tradizione Della Malesia Ed è Più o meno Stimile Anche se È un po' diverso Insomma Quella Si cibba Del sangue Un po' come i vampiri Mentre la manannaggia Si cibba solamente Dei feti Capito Non dei feti Dalla persona Capito E quindi Questi Più o meno E questi Più o meno Comunque Insomma Contenetevi E fate bravi Capito Se no Insomma Sono guai Va bene Va bene Signor Faber Subito Subito Obbedisco agli ordini Assurdo Veramente Comunque Insomma Ringraziamo Faber Per l'intervento E possiamo Penso Concludere qui L'episodio Di oggi Incredibile È stato un po' Strano Caotico Però insomma Ci sta Ed eccoci qui Nella conclusione E come sempre Noi vi ringraziamo Per aver visto l'episodio Stavolta Niente indizio Per il prossimo episodio Perché Insomma In realtà Non sappiamo cosa fare E no Non spoilerare così Però le cose Mannaggia E vabbè Dobbiamo essere sinceri Non sappiamo ancora cosa fare Quindi nessun indizio Ciao Godo Però insomma Chissà Parare chi c'è con noi Vabbè Ormai lo sapete Chi c'è Eccomi qui Io Non dico niente Però Già che mi trovo In questo universo Potrei darmi da fare Chissà Resto sul vago Non dico nulla Capite Però Nel dubbio Resto così A dire le cose Non ci sa Voi sapete Non lo sapete Se lo saprete Mai lo saprete Giusto Bisogna rispettare tutto La famiglia Il Godaverse E Tutti quanti Esatto Grazie per le perle di saggezza di Faber Che Insomma Oggi Di solito è più cattivo Oggi lo vedo più Tranquillo Se non mi fate vedere Cose orribili Allora io sono contento Se mi fate vedere cose Terribili Ignoranti Io mi incazza Capite Per l'aspetto è importante La tradizione Soprattutto è importante Ma Queste cose vanno bene Infatti Questa è una leggenda Della tradizione E va bene Ma le cose stupide A me non mi piacciono Io Odio Le cose stupide Capite E per cui È lì che mi incazza È lì che mi incazza In questo caso Però Non mi devo Incazzare Capite Mi sembra giusto Mi sembra giusto Allora Ringraziamo Faber Insomma Ha fatto questa incredibile Cosa molto vaga Di dire che Lui è qui E chissà Chissà Che cosa farà Ed eccoci qui Incredibile Va bene Allora Vi diamo appuntamento Al prossimo episodio Della paura Fagodo Ciao ciao Addio Ciao Addio Ciao 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 ragazzi Ciao piccioli